buongiorno a tutti allora dopo aver parlato di fiorentina western vi sto calmando adesso tra l'altro non l'ho vista in diretta perché ero a lavorare poi oggi è stata una giornataccia mi sono anche fatto male al dito perché abbiamo un loro top piatto piattino di merda del raccoglierlo sa che te taglietto il taglietto dove lo metto dopo metterò anche il cerottino che è meglio e vale comunque con gli usa ragazzi con gli usb magari faccio anche le di uso magari faccio un'altra con gli uscoli us doppia stavolta ma sì dai facciamo una con gli usb doppia visto che c'erano delle così interessanti comunque di che cosa parleremo questa volta parleremo di uno scrittore che lo scorso agosto era di come direbbero come dicevano tanti 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 anni fa in righiera è innamoratissimo innamoratissimo della sua nuova compagna perché lui è stato sposato ha avuto quattro figli con l'altra moglie poi si sono lasciati adesso c'è la nuova compagna ed è innamoratissimo e ne parleremo e sono ancora assieme belli felici e contenti poi parleremo di alcune curiosità sull'africa e su come mai si sono spostati i nomadi che c'erano prima lì tanti 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 anni fa come hanno fatto a spostarsi eccetera eccetera parleremo di questo poi parleremo del cantante dei black sabbath ormai 73 che ha raccontato una cosa un po bizzarra da positiva per lui e infine parleremo di un cantante che vinse sanremo con questa canzone tanti tanti anni fa era dedicata a una persona che lui conosce molto bene e questa persona che conosce molto bene l'ha cantata con lui lo scorso agosto sul palco non vi dico chi è non vi dico chi al cantante se no è se vi dico subito tutto non c'è gusto vi anticipo qualcosina senza dirvi ma partiamo subito con l'indnamoratissimo è tutto un fuoco edoardo albinati e francesca d'aloia la fiamma arrabbiati per la compagna l'attrice francesca d'aloia in un'intervista doppia al corriere della sera lo scrittore confessa la forte attrazione provata dei confronti della dolce metà ha il bisogno fisico di toccarla la sua sbaglia e ossessiva e con lei fa proprio stalking racconta al quotidiano di via solferino a milano edoardo albinati e francesca d'aloia la fiamma arrabbiati passione e ringraziamo anche cinematogra.it per aver ripreso questa intervista del corriere della sera francesca d'aloia ed edoardo albinati ripercorrono le tappe della loro relazione avviata nel 2006 all'epoca lei era sposata con marco risi e aveva un figlio lui aveva un diritto in matrimonio a benedetta loi ed i figli di aveva ben quattro recatasi al loro casolare di campagna l'intervistatrice evidenzia l'estrema alchimia degli innamorati si sfiorano mani braccia e gambe si toccano di continuo con edoardo albinati che sottolinea di continuo la dose della sua ossessione avverte il bisogno fisico di toccare la parte se non ne ha modo si tormenta stando alle sue dichiarazioni francesca d'aloia è diventata parecchio pudica all'illusia non lo era e lui desiderebbe sempre ammirarla nuda ma lei si sottrae si veste si nasconde un qualcosa per lui di intollerabile l'interprete spiega di vestirsi maggiormente in quanto gli anni in quanto gli anni passano e non si è più delle giovincelle ma edoardo albinati non è d'accordo e le chiede se si sia guardate intorno il suo corpo prosegue quello meno cambiato nella storia dei corpi umani è cosa fa l'indavoramento di una persona non è bello ciò che è bello è bello ciò che piace francesca d'aloia continua sottolineando di sentirsi addosso gli occhi del compagno in ogni circostanza a tal punto da andare oltre il limite occasione ma di rottura non si parla anzi è un idillio i due vivono in case separate a roma e ciò ha rappresentato un grosso ostacolo durante la pandemia quando le misure restrittive emanate dal governo per contenere i contagi spissero edoardo albinati a cercare mille scuse per andarla a trovare fingeva di avere un cane strisciando contributi conclude il 65 allora andiamo a vedere la simpatica perché lui ha 65 anni vediamo la franceschina d'aloia quanti anni a tenete conto che l'intervista e dello scorso agosto quindi allora lei è nata del 21 aprile 1963 ea 60 anni quindi giustamente non si sente più una ragazzina dovrei dirlo io visto che però per una donna magari diverso che per un uovo in ogni caso lui è innamoratissimo la differenza di età e bidi ma pensavo ce ne fossero di più invece ci sono solo cinque barra sei anni di differenza che credo che sia una cosa abbastanza giusta poi vabbè c'era la battutona bellissima che io adoro adorato quando l'ha detta volevo fargli la standing ovation c'era questo fi cardio fitness e questo personal trainer di una palestra diceva che per un uovo la fidanza l'età giusta della fidanzata è molto facile da trovare bisogna prendere la proprietà dividerla per due aggiungere cinque e la cifra che viene fuori è quella dell'età giusta della fidanzata quindi facendo il calcolo sarebbe perfetta però non credo che sarebbe molto d'accordo la possibile fidanzata diciamo che quando sei giovane per esempio un diciottenne con la quattordicenne potrebbe starci 18 diviso 2 fa 9 più 5 14 18 14 ancora ancora siamo dei limiti 20 15 siamo dei limiti più o meno e la serva siamo un po a rischio 30 20 ci siamo un po più ci sono di coppie 30 20 40 25 ci può stare 45 27 e mezzo 28 facciamo arrotodiamo a 28 ci può stare però comincia esserci già e poi più vai avanti e più la questione diventa problematica vabbè lasciamo perdere la battuta di cardio fitness non so se l'avete visto se non l'avete visto guardate del carino come film poi c'è tanta topa e quando c'è topa il film è sempre carino comunque dalla questione di alle buone edoardo albinatica arrapato con la sua sessantenne andiamo a parlare di antropologia diciamo sì si può dire antropologia geografia paleontologia comunque come ha fatto l'uomo a lasciare l'africa centrale per le regioni più a nord del continente per poi migrare verso l'eurasia certamente non avrebbe potuto se si fosse trovato davanti all'immensa distesa del deserto del sahara così come la conosciamo oggi quel mondo però non è sempre stato così una ricerca pubblicata su science advance suggerisce che le condizioni del deserto buttano profondamente a cicli di 20.000 anni almeno da 240.000 anni a questa parte e poiché i nostri lontani consimili hanno iniziato a lasciare l'africa circa 170 mila anni fa beh sono stati fortunati nella lenta e ripetuta migrazione verso nord hanno potuto sfruttare periodi che trasformavano il deserto in una regione verde e ricca d'acqua lo studio ha preso avvio dal mare prospiciente le coste occidentali dell'africa settentrionale dove nel corso del tempo i sedimenti hanno raccolto e conservato la polvere che periodicamente anche i nostri giorni i venti trasportano dal sahara verso l'oceano atlantico raggiungendo a volte anche gli stati uniti dei risedimenti oltre a polvere e fossili si trova una certa quantità di torio sostanza che si forma dal decadimento dell'uranio radioattivo presente in modo naturale degli oceani quando sarà è più secco e arido la quantità di polvere che arriva in mare maggiore e il torio presente dei sedimenti è più concentrato il contrario avviene quando sarà diventa più umido bene o polvere e quindi minore concentrazione di torio l'analisi della percentuale di torio dei sedimenti ha permesso di capire che il sarà diventa più verde per poi ritornare desertico con un ritmo di circa 20 mila anni l'asse di rotazione della terra può oscillare tra i 22,5 gradi e 24,5 gradi in cicli di 40 mila anni circa oggi è inclinato di 23,27 gradi rispetto alla perpendicolare al piano dell'orbita la causa del pendolo secondo david maghi del mit uno degli autori della ricerca è la variazione dell'inclinazione dell'asse terrestre che uscilla tra i 22,5 e i 24,5 come dicevamo l'attuale inclinazione adesso è di 23,7 in periodo di 40 mila anni circa la variazione influenza anche i monsoni che non sono un'esclusiva dell'asia ma si verificano anche in alcune zone dell'africa in particolare il monsone africano occidentale interessa la fascia a sud del sahara quando la terra è più inclinata il sahara riceve più luce solare estiva e si ha un'intensificazione dell'attività monsonica della regione che a sua volta rende il sahara più umido e di conseguenza anche più verde quando invece l'asse del pianeta oscilla verso un angolo che riduce la quantità di luce solare per unità di superficie l'attività dei monsoni si indebolisce portando a un clima più secco simile a quello che vediamo oggi vedremo se nei prossimi anni se ci sarò ancora chi lo sa il deserto diventa una super oasi megagalattica ma andiamo a parlare del buon cantante dei black sabbath che per bobbia cosa ha detto che cosa ha detto che cosa ha detto io sono rimasto basito ozzi hobsbord ho deciso di smettere con gli acidi dopo aver parlato con un cavallo per un'ora il rocker 73 anni ha raccontato un addenduto regato al suo rapporto con le droghe ozzi osmond ha aggiornato che non si sarebbe mai più calato un acido dopo aver parlato con un cavallo per un'ora intera a raccontarlo è stato lui stesso in un'intervista dello scorso agosto con il tabloid britannico di daily star in cui ha spiegato che negli anni 70 l'uso di acidi era molto comune degli stati uniti ma che una volta giunti in inghilterra un epusodio in particolare gli ha fatto capire che era ora di smetterla era abituato a buttare giù manciate di pasticche alla volta è finito tutto quando sono tornati d'inghilterra ha raccontato il rocker ora 73 noto per lo stile di vita a dir poco sopra le righe una volta ho preso 10 pasticche di acido e poi sono andato a passeggiare in un campo mi sono ritrovato a parlare con un cavallo per circa un'ora al fegno alla fine il cavallo si è girato e mi ha detto di andare a farmi fottere da lì ho detto basta les frobe dei black sabbat ha detto anche che la sua dipendenza dalle droghe per un certo periodo è stata così fuori controllo che si faceva del male apposta per poter avere delle ricette di antidolorifici prendevo un pezzo di legno mi colpivo in testa così che mi dessero una confezione di pillole vabbè meno male che adesso l'età mette giù con l'età si mette giudizio ma concludiamo concludiamo allora ozzi osborne diciamo che dovrebbe essere di cinematografico e non l'ho segnato forse forse di anni 80 più probabile di anni 80 per quanto riguarda la rotazione il deserto eccetera ringraziamo scienze e notizie e invece cinematografico per lo scrittore arrapato indavoratissimo della sua compagna e concludiamo ragazzoli con questo ultima notizia che ho trovato sul web non c'è segnato da dove arriva quindi ed è dal web dello scorso agosto parliamo di un cantante che scrisse questa bella canzone per la figlia che tra l'altro gli fece vicere anche sanremo e che si intitola semplicemente angelo angelo è una canzone di una delicatezza grandiosa ed è anche la dedica di un papà innamorato di sua figlia francesco regga ha scritto la canzone proprio per la sua iolanda volevo mettere voi in questo post il mio amore gigante iolanda regga ieri è salita sul palco col suo papo non ho resistito spero comprendiate così scrivere il ca per accompagnare la dolce foto mentre abbraccia la figlia sul palco dopo aver cantato la sua famosissima canzone i commenti sono moltissimi uno più bello dell'altro per questo amore padre figlia che rimane sempre forte nel tempo iolanda è visibilmente commossa e il video mentre papà regga canta dopo un commuovere anche i cuori più freddi lo ha ripreso verissimo tv sulla sua pagina instagram ed anche per questo contenuto non sono mancati i commenti positivi e la pioggia di cuoricini facciamo il cuoricino va che non mi riesce come al solito ma vabbè comunque dovrebbe essere così schiaus ecco non il cuoricino iolanda regga come si vede dal video e come alcuni commentano e tutta sua mamma abbracciolini ex del cantautore la somiglianza e tante di legame con la mamma è molto forte tanto che iolanda si è più volta esposta in risposta ai commenti negativi che alcuni tenti hanno riversato sopra giolini a seguito della separazione quella separazione su cui la cantante ha deciso di parlare dopo diversi anni raccontando in un'intervista quanto sia stata dolorosa la fine della relazione con francesco regga ma anche quanto l'abbia aiutata a crescere come racconta nell'intervista l'unico vero famigliamento che riconosco è la fine del rapporto con francesco comunque le foto e il video di iolanda e francesco regga che con lui che sul palco che canta lei di fianco a lui sul palco hanno fatto il giro del web e in poco tempo sono diventati virali la notizia dello scorso agosto però penso che se cliccate su youtube iolanda francesco regga angelo prevede ci saranno 3000 video sia con lui che canta angelo senza la figlia si con lui con la figlia vicino e e baci a braccia eccetera eccetera un po come il bordeaux e rosa mazzotti aurora e michel unziker con l'aurora col pancione e lui che cantava più bella cosa alla michelle con la biscia che si scioglieva eccetera eccetera che ha cantato assieme poi ha cantato ancora tu assieme lui e la figlia con la io e con la biscia che si commuoveva e ma è bello vedere questi papà che dedicano alle figlie canzoni o che cosa nonostante magari la storia con la mamma della bambina è finita finita tra virgolette perché pare pare così dice la michelle che ogni tanto fanno ancora i piccioncini loro due si fanno le coccoline io non ho capito perché si siano lasciati però adesso lei ma si vede che lei o di dieci anni deve cambiare fidanzato perché con eros è durata circa dieci anni con il con l'altro suo compagno è durata dieci anni siete che lei più di dieci anni non li poi non li sopporta più boh non lo so vedremo vedremo non lo diranno mai cose loro sogno vabbè io intanto vi saluto vi ringrazio abbiamo fatto anche queste con gli usa adesso vede faccio delle altre sì 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 vi faccio delle altre con gli us ciao